Io a casa non ci torno finchè fuori non fa giorno Sappiamo A vigna Non mi hanno dato neanche un pollo Adesso è buio Vado a fare pipì Era monculi Basta creeper vi prego Un episodio a Milano, un episodio a Firenze Impazzite qua Bene ragazzi quest'epni e bentornati nel secondo appuntamento della serie di Minecraft chiamata Skygrind Survival Non pensavo di dover arrivare al punto di chiarire il fatto che non ho veramente legato e bendato Suri per fargli fare quella intro Ma prima l'ho anche sedato Mi pareva più che giusto così aveva meno forza nel corpo e è stato più semplice sottometterlo Sono contento che la serie vi stia piacendo Faremo due episodi a settimana circa in questo periodo Mi raccomando non dimenticatevi di spolliciare e sostenere la serie Andiamo a giocare Siamo rigorosamente rimasti al punto dell'altra volta Il nostro obiettivo adesso è creare del pane E per farlo avremo bisogno di questi dannatissimi scheletrini Il che significa che dobbiamo rendere questa zona adeguata allo spawn degli animalacci Pensavo sarebbe stata una cosa un po' più semplice ma evidentemente non droppano i semi In questo momento è giorno quindi dobbiamo creare noi la notte all'interno di quel cubo di quella roccia Non lo so come potete chiamarlo E la mia preoccupazione è non sapere se basteranno davvero i materiali a chiudere tutto questo Lo scopriremo a brevissimo mi sappiamo Posso fare così posso fare cosa Aspettate che qui c'è uno strato di blocchi da prendere Più o meno pensavo ce ne fosse di più Noto con piacere che è tutta bucata questa isoletta Questa cosa non ci aiuta Vediamo di chiudere in qualche modo tutti gli angolini Qui vabbè perderemo un blocco ma pazienza Non mi sono posto per una domanda Come esco io da qui adesso? Ho bisogno di farmi una scaletta così per forza Ci siamo è praticamente buio Mancano forse due blocchettini non di più Ma sono veramente contati cioè guardate precisi al midollo Resposto un blocco boom diventa giorno Allora potremo provare a fare in questo modo qui Ok Adesso è buio È tempo di lottare infami venite Io a casa non ci torno finché fuori non fa giorno Immaginavo fosse così lento ma speravo un po' il contrario Ottimo questo significa che adesso fino a che non ci danno un semino Noi non possiamo fare nulla Bella storia È una notizia meravigliosa no? Piuttosto visto che nasceranno dei mob inutili qua sopra Mettiamoci delle torce E per sicurezza i funghi li prendo io È un blocco sotto a questo blocco? Sì Quindi posso azzardarmi a fare di questo E basta non ce ne sono più Per la cronaca l'altra volta non ho usato la creative ragazzi Ma semplicemente in chat il gioco ti fornisce delle soluzioni a degli oggetti smarriti Ve l'avevo anche spiegato Se hai perso un oggetto clicchi nel link blu e lui te lo restituisce Poi diciamoci le cose come stanno era stato veramente un incidente fortuito eh Anzi sfortuito E di quando alle tre c'era Bim bum bam Due spadate di qui Due spadate di là Zan 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 Ogni volta che fa buio buio ne esce uno Potrei provare a fare così Lo uccido Salgo Apro E richiudo Funziona? No Sta arrivando la notte Tre bombial da parte ce li ho Ma non basteranno Abbiamo bisogno di molti più bombial Secondo voi sotto la mia isola c'è qualcosa? Probabilmente no Solamente la graffite e cazzo di andensite Raga mi è venuta un'idea pazzesca Ma se io butto il bon meal sul pavimento non dovrebbe darmi semi? Ti prego Ti prego Oh mio dio si Come ho fatto a non pensarci prima? Oh tu levate alle scatole Dai eh Droppami semi E' un faustronzo Eccoli Eccoli lì Lo sapevo Tre precisi Adesso prendiamo questa acquetta qui E ci facciamo un collegamento Zappiamo a vigna Con tre blocchettini Uno due tre E piazziamo i nostri Tre semi Adesso raga è molto più semplice Ora gli facciamo il culo Guarda cantina nascono Su Su a profusione No quelli sono scheletri normali Aia I scheletri normali però dovrebbero dare le ossa normali Questa è una cosa buona Mi lancio giù Mi lancio giù Mi lancio giù Mi lancio giù Stavo un errore Stavo un errore Aiaiaia Aiaiaia Un cuore Via di qua Mi ha dato pure un arco Un cuore mi piacerebbe Mezzo cuore E neanche un ossicino Chi è quasi certo della mia morte imminente Alzi la mano Va buono Prendo due bon meal In frattempo E le piazzo Uno qui E uno qui La vita da contadino è dura Quanto scommettiamo che muoio Guarda Ve lo dico adesso Più di qui Tac tac Mi è nato accanto Dai Questa sarebbe giustizia Ma dove? Scusate Io non vorrei essere impertinente Ma avevo una spada Con il quale lo stavo picchiando Devo capicarlo con la zappa Cose fuori dal mondo Dammi il bon meal Niente da fare Naffanquo vai Dammi due pezzi di cob E so che voglio farmi una spada Non potrò mica combattere Per sempre a mani nude Nel senso posso anche farlo Ma è sconsigliato Come il maestro Sholin Però insegna Bisogna sempre cogliere Il lato positivo Delle cose Abbiamo rifullato I nostri cosciotti E la nostra vita E questa non può essere Una cosa brutta È una cosa bella Se mi chiedete cosa io stia facendo Sto espandendo la mia isola Per avere dei bordi Un pochino più ampi Tanto la legna Nasce all'infinito Visto che ho i semi L'unica cosa fondamentale È ricordarsi di mettere le torce Ah adesso mi dai semi E che ci faccio io con questi? Ma figuriamoci Se avessi dovuto aspettare loro Potrei togliere le torce E sperare che nascano gli scheletri No quello è brutto Quello no 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 Deve morire adesso raga Se fai esplodere lo spawner Ho perso praticamente Non scherziamo Ma poi Scusate dove sono i polli Che mi avevano promesso? Non mi hanno dato neanche un pollo Mi stanno droppando Tutte altre cose Basta creeper Vi prego No 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 Non ho spavuto Non ho spavuto Non ho spavuto Le palle Che cazzo ci incastrano? Devono sparare solo gli scheletri Qua dentro Mi avete mentito? Ma di straccio Kamikaze Neanche un bombiel E va a cagare Sì L'ho visto? No c'era un nostro Sto non ce l'avevo visto Che cosa? C'è pure il danno? Ma non è possibile Ma si rimane a mezzo cuore Almeno questo è quello che penso Su Su disaccagnate Ecco il bombiel Se cazzo Che cosa esulto Che non mi basta ancora Però Se lo diamo Qui Pam Manca veramente pochissimo adesso Non ci resta Che aspettare Vado a fare pipì Qualcuno dovrà spiegarmi Come può il grano Crescere più lentamente Di un dannatissimo Albero a 500 piani Perché sì Gli alberi si contano a piani Adesso Cazzo stai dicendo Era monculi Era lontanissimo Come ha fatto ad uccidermi Ma non è possibile Sta cosa Ma poi scusate L'esplosione non ha fatto nulla Cioè Non ha creato neanche il cratere Un'ora che aspetto Sto cazzo di grano Ma è pronto o no Non si capisce Ehi qua ragno del merda Ehi qua Magari se riesco a farmi un letto Eccoci come non Poi il tempo scorreva più velocemente Ho caduto nella fossa dei leoni Anzi sono nella fossa dei coglioni Mi ha dato un buon meal Ok Il piano è questo Adesso quando nasceranno Due dei tre grani Il terzo lo boosteremo Uno è già nato Sì Che benessere Dovrebbe darmi un singolo colpo Giusto? Esatto Però mi da tre semi I semi li ripianto Appena Da uno dei due Boom Sull'altro e facciamo il pane Sembrava una missione semplice raga Ma è veramente lunga È difficile Si accettano scommesse Dai scrivete Eccoci Destro e sinistro È nato Boom Boom Si fa Si porta a casa il panino È nato anche l'alberino Non mi rompete i coglioni Vai così Dov'è l'isola? Dammi l'isola Strozo Io ho pagato E non mi fate tra Prossima challenge Di craftare un arco Io l'arco ce l'ho L'arco ce l'ho Oh Ho completato anche la quest Sai Tanta roba La prossima quest è di craftare E catturare O cucinare Un pesce No belli Mi stai facendo incazzare adesso Dov'è la mia Fottutissima Isoletta nuova Mi incazzo Oh la 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 Che culo però Che prima lo scheletro Mi ha droppato l'arco Così ho fatto la quest In un batter d'occhio Il panino lo lasciamo lì Madonna Il panino è la leggenda Non lo mangeremo mai Guardate cosa c'è la Del ferro E anche un creeper Visto che ci hanno fornito un arco Adesso lo utilizzeremo per cacciare il creeper dall'isola Per mettere delle torce E vedere un po' che cosa c'è in quello spawn Siete pronti? Bisogna fare il collegamento adesso Ho visto cadere uno scheletro Sono sicuro di sta cosa Mettiamo prima la dirt Così c'ho la strada Lo facciamo andare poco poco sul bordo Bravo Affacciati Così ti faccio cadere Muori vai Ciao E adesso rendiamo la neutrale E proviamo a vedere cosa ci dà qua Secondo blocchetto d'acqua raga Quasi sicuramente questo significa Che dobbiamo fare una fonte d'acqua infinita adesso Evviva Come al solito c'è qualcosa Che mi mette i bastoni fra le ruote E' saltato l'audio del microfono Da questa parte in poi del video Non che io abbia fatto chissà quante grandi cose In ogni caso ho preso l'acqua della seconda isoletta L'ho unita alla mia vecchissima acqua E adesso abbiamo una fonte di acqua infinita A disposizione sia per il grano Sia per le cascate E per evitare di cadere di sotto nel vuoto Inoltre in quell'isoletta Come potete aver ben visto C'è uno spawner di scheletri Quegli scheletri nascono con la testa di cobblestone La spada di pietra E droppano coal originale Quindi il blocco principale E anche dei blocchi principali di iron Che scoprirò nel prossimo episodio Essere molto utile per la prossima quest Non quella del pesce eh Per quella del pesce Probabilmente avremo bisogno di farci Una bellissima piscina E questo sarà appunto nel terzo appuntamento In questo momento sto semplicemente Cercando di creare Una sorta di mob spawner controllato Un generatore di mostri Che può fruttarmi Tante cose buone del futuro Il problema è che non sono proprio Un mago delle misure E quello che succede È che gli scheletri sono troppo alti Ma non c'è la miseria Ci pensiamo la prossima volta Che ne dite? Io spero ragazzi Che se ti sia piaciuto Deve essere stato Spolliciate Commentate Condividete Se il canale Nel prossimo video Vediamo sempre tutto Ciao